Ciao a tutti, Dreamlec, come vi dà il benvenuto al nuovo episodio di Centocuccioli, da quanto che non entriamo a casa di Alex e Sara. E era una bella scena di colazione tutti insieme, ovviamente queste due devono alzarsi e abbracciarsi, ovvio. Potete tornare a sedervi, grazie. È la vigilia di Capodanno, ma non so se la vedremo, perché in fondo, cioè, quello che ci interessa è altro oggi. Poi se mi dite che per forza ci tenete a vedere la vigilia di Capodanno, faremo un breve mini-episodio dedicato solo alla serata con gli Shallot. O con loro anche, perché no? Chi è che sta crescendo? Fiore! Sta diventando anziana! Povera patata! Eh sì, sono rimasti solo tre i cani. Fiore, il figlio Birillo, che è l'ultimo discendente di Mister, il nostro founder canino. E poi Peggy, la cagnolina di Ginny. Oh, ha superato la fase di maggior vigore ed è diventata una cagna anziana. Potrai notare che dorme più spesso, salta di meno sopra le cose e ha una maggiore probabilità di ammalarsi. A Fiore restano comunque ancora delle belle giornate da vivere, quindi trascorri un po' di tempo con lei prima che giunga il momento di salutarsi. Ma perché sono così tristi questi messaggi, dai? Oh, Sara e Alex innamoratissimi. Ancora, nonostante tutto. Tesoro, però mangia. Vabbè, ok, sei piena. Si sta lamentando dei problemi con Peggy, che poverina non ne può. Cioè, dintorni disgustosi non so dove. Tesoro, non so dove sono disgustosi dintorni. È abbastanza rompiscatole. Che è successo? Ma mi state facendo i cuccioli? Ma senza che io vedi cani... Povera potata. No, cioè, se prima era assurda, adesso l'è ancora di più. Il cane capra. Però è sempre adorabile. La mia fiore. Ma mi stavano facendo i cuccioli. Stavate cercando di dirmi qualcosa, Peggy e Birillo? No. Boh. Anche perché Ginny non permetterebbe mai che la sua Peggy di pura razza si mescoli... Cioè, faccia di cuccioli, non di razza, ecco. Che è abbastanza brutto detto così. Però, vabbè. È così. Allora, dato che Peggy è sveglia... Oh, ma guardate questi due. Cos'è la giornata dell'amore? Sia umano, sia canino. Vabbè. Ginny è sempre triste, comunque, quando non è comparide. Sente sempre che ne manca qualcosa. La mamma lo sa, l'ha capito. E secondo me, stamattina... Durante la colazione, le ha detto... Ma tesoro, perché non coltivi un po' dei tuoi hobby? E... Cercando di capire, ha scoperto che gli hobby di Ginny... Insomma, ci sono, ce li ha, non è che non ne ha. Prima di tutto, la forma fisica. Soprattutto il calcio, in questo momento. E infatti vuole procurarsi un pallone. Perché, appunto, ho scoperto che Paride vuole entrare a far parte della squadra di calcio all'università. E quindi lei lavorerà un po' su questo. Poi, vabbè, mancano un sacco di giorni per andare all'università. Anche se poi farò trascorrere i giorni più velocemente in una seconda fase, diciamo. Però, intanto, ho messo la vita lunga. Poi, e quindi il calcio. Quindi mamma Sara le acquista... Vediamo se si può da qui... Un regalo. Sì, eccolo qui. Poi, i cani, ovviamente. Ma non tutti i cani, come i suoi genitori e sua prozia prima di lei. Bensì, Peggy. Vuole fare diventare Peggy una star in due modi diversi. Per cui, con le foto su Instagram. E quindi vuole imparare l'arte della fotografia. E poi con il percorso a ostacoli. Quindi stamattina ha intenzione di uscire e di provare un po' di ostacoli con Peggy. Poi, voi cari, cosa dovreste fare? Tu, vabbè, andare in bagno, ma non è questa la domanda fondamentale. Usa. Tu, al lavoro fra due giorni, discuti di abiti o di moda. Allora, prima discuti di abiti o di moda. No. Discuti di moda, sì. Andiamo. Tesoro. Per cui... Ordine all'animale di usare Peggy. E Sara, invece, deve andare avanti con il suo lavoro. Per cui, tra un po', cerchiamo un ingaggio. Ecco, hai discusso di abiti? Sì. Deve farlo con altri due sim, però. Va bene, non c'è problema. Tanto mi sa che stasera vedranno i parenti, quindi siamo a posto. Freelance controlla la disponibilità di ingaggi. Tu, tesoro, sei qui con Peggy? Dai, fai un po' di cose qua con Peggy. Ma incendia no, per favore. E vediamo... Sara. Mamma mia, che lag. Vediamo Sara se riesce a trovare un ingaggio. Poi non è indispensabile per loro lavorare, a dire il vero. Però... Sempre meglio di niente. Qua dobbiamo acquisire altre quattro abilità a livello otto, Urca. Servono autori per ampliare universi. Aiuta il nostro futuro distopico. Bellissimo. Sì, dai. Aiutiamo il nostro futuro distopico. Cerchiamo un freelance che scriva dei capitoli per un'imminente saga distopica ambientata nel futuro. Incentrata su un gruppo di profughi che hanno visto infrangersi il sogno di un mondo migliore, la saga deve focalizzarsi sui conflitti regionali dovuti alla scarsità di risorse e sulla difesa da un governo distopico che erode la sfera privata con i propri strumenti di sorveglianza e a seconda il vuoto compiacimento della popolazione con appositi farmaci. Praticamente è riscrivi 1984 di George Orwell o il grande fratello, che dir si voglia. Dai, facciamo questo. Per cui... È in dolce attesa Peggy, ma io non sapevo che potessero riprodursi da soli. Genie sarà furiosa quando lo scoprirà. Mamma mia. Ops. Va bene. Ok. Completamente fuori programma. Anche perché dopo Birillo non era mia intenzione andare avanti con la discendenza di Mister. Ma il gioco ha deciso, altrimenti mi sta lanciando dei messaggi in codice. Va bene. Allora, scri... Non cinque libri buoni. Qua. Scrivi il romanzo di fantascienza, fai provare il libro e chiacchiera con il cliente. Cominciamo col romanzo. Per cui... Sei felice, dovrebbe andare bene. Scrivi... Fantascienza. Ma tu stai facendo questi ostacoli o stai facendo finta? Gli alieni non portano gli occhiali da sole. Certo, è proprio il titolo per un libro distopico. No. Un governo che ci guardava. Tutti. E' un libro sul grande fratello. Tanto per cambiare. Cioè, non è più un argomento tanto... Eh, scritto una volta. Perde la sua originalità. Peggy! Ma si vogliono bene questi due. Si amano tantissimo. Peggy, però vieni qua. Dai che già Ginny ha le traveggole per conto suo, non so per cosa, non so dove... Cioè, in qualsiasi stanza ci sono i dintorni disgustosi. Oh, mi si è buggata, per cui io ti resetto. Proviamo a resettarci, tesoro. Oh, secondo me si era buggata, per cui... Peggy, vieni. Ma c'ho qualche problema. Ah, forse... Deve... Sì. Consenti l'accesso a... No, sblocca. Dai, vieni. Perché non potevano uscire di qua. Per cui è logico che si lamentasse. Vieni, Peggy. Chi è quel cane con le zampe rosse? Vabbè, io dopo tutto questo discorso non ho dato nulla da fare ad Alex, per cui produciamo dolcetti del benessere. Produci dolcetti del benessere. Oh. Per cui... Ordina di usare a Peggy. Peggy, tesoro. Stai qua un attimo, Peggy. Vieni, tesoro. Che ti insegno a usare questi. Perché tu diventerai famosa. Insomma, deve pure inventarsi qualcosa da fare quando non sta con Paride. Brava patata. Per cui secondo me adesso la loda. Loda. Poi, ordina di usare a Peggy. Sei malata, Ginny? Bravissima, Peggy. Dai che dopo ci facciamo una foto nella neve. E ora? Prova a fare questo. E lei, ma non sono mica tanto convinta. Dopo ti insegno a camminare accanto a me. Ma si può? Brava. Per cui amichevole. Loda. E dalle un dolcetto. Dai un dolcetto. Oh, possono diventare compagne. Diventate compagne, dai. Bellissimo. Ma sei bravissima, Peggy. Oh. Che amori. Dai rifammi questo. Così facciamo una bella foto. Cioè io la faccio, non tanto Ginny. Urca, con tutta questa neve sarà un problema. Quando una smette di laggare, possibilmente. Mamma mia. Che ansia. Oh. Sì. Questa mi piace. Questa è una bella foto. Vediamo di prendere tutte e due nella maniera migliore possibile. Prova di vedere Peggy che salta proprio. Voglio che si veda. E anche una foto da vicino. Oh, vuole giocare Peggy. Allora, facciamo così. Usciamo una... Oh, è concentrata. Prima volta che vedo qualcuno concent... Cioè qualcuno. Un cane concentrato. Un gatto, se è per quello. Per cui... Vai qui. E chiama Peggy. Che adesso vediamo di giocare. Intanto ci sono i soliti randaggi. Però qua sblocchiamo di nuovo. Perché sennò diventa un casino. Ma l'ha fatto da sola. Bravissima. Peggy. Vieni. Che blocchiamo ancora la porta. Blocca per... Tutti gli animali. Però vai qui. Ti ho detto di andare qui. È molto felice adesso Ginny. Vedete? Se si concentra sui propri hobby... Diciamo che non pensa paride e passa la paura. Peggy, dai, te la prendo io la pallina. Facciamo così. Ci sono anche gli altri che giocano con le palline. Tu? Lascia stare. Mal di testa. Eh... Tutti malati adesso saranno. Guarda, abbiamo un dolcetto giusto giusto per... Vabbè... Mi sa che sono malati in due. Presentazione amichevole. E poi gli diamo il dolcetto. Peggy. Ecco la febbricitante. Tu Sara, anche tu malata? No, solo sensazione di furia. Va bene. Ma Peggy, dai, ti prego. Mamma mia. Oggi Peggy non vuole collaborare. Sarà la gravidanza. Non dè un dolcetto, ma... Ah, del veterinario. E poi corriamo subito a un altro... A farne un altro. Produci. Altro dolcetto del benessere. Cosa c'è patata? Vabbè, giustamente Ginny si è rotta di aspettare Peggy. Per cui... Vai qui e comincia a esercitarti, diciamo, semplicemente nella fotografia. Vabbè, in due fotocamere. Una molto costosa. Scatta una foto. Ah, una cosa festiva? Va bene. Non lo sapevo. Uh, questo. Una scena tipica di Brindleton Bay in inverno. Ecco, abbiamo anche trovato la foto. Il nome della foto. Facciamo sovrasaturata. Sì, dai. Così spicca bene il bianco della neve. Poi io di fotografia non so nulla. Per cui... Anche questa. Toni freddi. Toni caldi, no. Toni caldi, no. Urca, no. Sì, vignettatura. Bianca. Nera. E basta. Per cui acquisita l'abilità di fotografia o no? Mi sa di no. Fai una foto a me, fai una foto a me. Va bene. Scatta una foto e vediamo se riusciamo a beccare. Sì. Sì che ce la facciamo. Certo, preferivo un'altra angolazione. Però, vabbè. Facciamo foto piccole. Giusto per allenarci. Dai, presentazione amichevole. Urca. Stai calmo, Asterix. Volevo solo darti da mangiare. Amichevole. Dai un gran dolcetto. Oh, finalmente si è degnata di venire qui, Peggy. Vediamo se possiamo darle ordini di addestramento. Per cui sa già seguire. Ok. Parla, riporta, arrotolati. Arrotolati, sdraiati, siediti. Facciamo riporta. Dai. Potrebbe essere una cosa interessante. Poi facciamo qualche foto per Instagram. Così cominciamo a farla conoscere. Poi Alex dovrà ordinare medicine per tutti, praticamente. Oltre che fare i dolcetti del benessere. Dai, andate fuori. No, in casa. Va bene. Adesso l'è estordita. Eccola. Tutti malati. Tutti quanti. Qua conosciamo qualcuno. Sì. Per cui diamo la precedenza a Taio. Poi però acquistiamo farmaci per la famiglia. Se no, danno tutti quanti le dimissioni. Per cui ordina a acquistare la medicina. Vai. Però Peggy sta imparando. Allora, distribuiamo i farmaci. Uno e uno. Tu hai finito di scrivere quasi. Allora, tu prendi la medicina. Tu anche. E produci dolcetto del benessere. Che è successo? Sara ha finito di scrivere un libro intero. Dubito che sia di buona qualità. Infatti, non è un libro buono. Peccato. Eh, scadente. Peccato. Prendi la medicina. E proviamo a farci approvare il libro. Chiacchiera con il cliente. Almeno quello. Poi chi se ne frega. A meno che non si possa migliorare. Ma voi potreste stare fuori, per favore? Cioè, io volevo solo che rimaneste fuori. Magari ci spostiamo un po' da casa. Magari è quello il problema. Forse. Allora, vieni qua. C'è un bel parco qua. Venite qua. Vai qui. E chi ha... Perché Peggy è addormentata. Vabbè, niente. Allora, resta a casa. Che fai prima? E... E che puoi fare? Fai i compiti. Intanto che aspettiamo che Peggy si riposi un po'. Lei adesso è energica. Sono tutti energici adesso. Fiora è felice. Eh, buon per lei. Peggy dorme qua. Va bene. In tutto questo... Uh! Carina! È la prima volta che il gioco mi crea dei randaggi di taglia piccola. Non ne ho mai visti, giuro. Mai. Lascia stare. Ah. Ok. C'è qualche altro malato? Sì, perché l'avevo visto. Uh! Achille! Entra, entra! Buongiorno. Invita a entrare. Sei venuto qua in anticipo? Ovviamente pensa... Oh, che schifo tutti questi cani. Ma ciao Achille! Entra pure! È già qui? Sì, appunto. Dovresti venire qua stasera, se proprio. Se proprio. Se mai faremo questo episodio con la vigilia di Capodanno. Vabbè, conto alla rovescia. Ok. Stabilisci dei propositi, spirito artistico musicale, fuochi d'artificio. Compriamo i fuochi d'artificio prima che mi dimen... Ah no, ce li abbiamo già. Va bene. Niente fuochi d'artificio. C'era qualche altro malato, ma mi sa che è andato via. Per cui... Per cui... restiamo su qualcosa di... Di non troppo forte. Cioè, a quest'ora una birra. Birra chiara, una di quelle poco alcoliche. Fiore giù da banconi. Mamma mia, non ha mai imparato. È una zuccona, fiore. Allora, ti va una birretta? Ma sì, dai, è da tanto che non esco di casa e non faccio un po' di svago. Però, zio, vedo che sei dimagrito tanto ultimamente. A parte che sei in casa, potresti anche metterti un altro abito in questo preciso istante. Eh, ma sì, sai com'è? Quei cani si corre sempre. E non in senso metaforico, eh. li porto spesso a correre, a fare jogging. Ah, perché, sai, io dovrei dimagrire un po'. E quindi... Bevi. Volevo chiederti dei consigli. È schizzinoso lui coi cani, vedete? Mamma mia, sei proprio una brutta persona, Achille. Non si può dare consigli per allenarsi? No, mi sa di no. Colui, no. Però possiamo esaltare lo sport. Esalta. Dove sei, Alex? Mamma mia, ti devo rincorrere. Lei è felice, nuova migliore amicizia. Ah, eh sì, perché è diventata... Perché è triste, Peggy? C'è gli stati omorali sballati. Mi sa che qua c'è la MC Command Center che sta facendo qualcosa. Perché sei triste, no? Tu dovevi far approvare il libro, però io direi... Fai ramanzine... E fai ramanzine... E poi... Abbraccia. Per confortarla. Ma è quindi, secondo te, dovrei prendere un cane? No, dovresti solo andare a fare più jogging. Sai, è un toccasana davvero. Cioè, anziché andare a uscire solo per buttare rifiuti, prendi e vai a fare jogging. Sì, certo. Va bene, grazie per questa dimostrazione. Quindi entusiasmati per gli interessi. Quindi, secondo me, sì, devi andare a fare jogging. Magari convinci anche Luisa. Beh, non ci sarà bisogno di convincere lei. Più che altro è lei che mi sta convincendo. Perché mi ha detto che altrimenti non mi sposa. Ah, vabbè, vedi, allora è un buon motivo per metterti in testa che devi andare a correre. Eh, sì. Perché è vero, ha messo su pancia. Cioè, pazzesco. Guardate. Non era così fino a poco tempo fa. Anche Alex ha avuto quel momento, eh? Quando era più giovane, se vi ricordate. E poi, vabbè, l'ho fatto andare in giro con i cani a fare jogging ed è migliorato. Bene, per cui io direi che sono le 17 e potremmo cominciare a preparare. No, no, Ginny, non mangio adesso. Tu vai a far approvare il libro. Tu. Dov'è Peggy? Facciamo una foto a Peggy. Per cui lascia stare quell'omelette. Vai qui. Perché io è quello che cerco di fare da stamattina, una foto con Peggy. Per cui, più che altro, giusto per farle affrontare, non affrontare, farle, farla concentrare, ecco, sui suoi hobby. Perché è giusto. È giusto che abbia anche qualcos'altro a cui pensare che non sia paride. Per cui fai una passeggiata breve e tu, Sara, non giocare a Simbaruffa, bensì freelance, non hai chiacchierato con il cliente. Chiacchiera con il cliente, ti ho detto. E tu preparerai, magari, un pasto grandioso. Cucina un pasto grandioso. Per stasera ci facciamo una bella cena base di prosciutto. Tipo, non c'è il quotechino, facciamo finta che quello lo sia. Per cui andiamo a fare due passi, così poi sarà pronta la cena, arriveranno gli ospiti. E, salve. Per cui, quando saremo al parco abbastanza lontani da casa, ecco, facciamo una foto per Simstagram, animale di Simstagram. Perché vuole che la sua Peggy diventi famosa. È il suo secondo amore per la vita, insieme a Paride. E quindi vuole che la sua Peggy sia famosa. Lei è davvero da sempre ossessionata da Peggy. Ecco qua. Era già famosa comunque, mi sa di sì. Vabbè. Cura dell'anima... No, vabbè. Stiamo già facendo una passeggiata, per cui si arrangerà a fare i bisogni. Chiacchiera con Achille. Non ho ben capito perché Achille è qui, ma vabbè. Sarà venuto qua prima, non ne poteva più di stare a casa, secondo me, con Eloisa. Perché... Secondo me è un po' una rompiscatola in questo periodo. Per cui, vabbè, io direi che ci fermiamo qua, per questo episodio. Mi sa che a questo punto faremo un mini episodio dedicato alla vigilia di Capodanno. Per quella serata dobbiamo sbrigarci perché sono già le 18. E quindi, io chiudo qua. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like. Uh, no, tra poco arriverete voi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi anche un commento. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili, per cui le mie playlist, i canali dei miei amici youtuber, il mio secondo canale, i social, i miei social e la mia affiliazione Instant Gaming, dalla quale potete acquistare un sacco di giochi per pc e con sales contati e supportare in modo concreto anche al contempo il mio canale. Per cui, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!